Buon pomeriggio dalla BIT di Milano, io sono Laura Arcilesi e rappresento Soleventi e Tour, agenzia viaggi, tour operator in coming in Sicilia. Il nostro valore è portare proprio alla luce quello che è la nostra terra, le nostre tradizioni e la nostra storia, farla conoscere e portarla al mondo, attraverso i sistemi ormai, quelli diciamo di social, attraverso il canale, la rete, però con la nostra esperienza, quindi attraverso il nostro lavoro. È un'esperienza quasi trentennale ad oggi sull'attività sia di incoming che di outgoing, ma la passione è sempre la stessa, cioè portare a conoscenza attraverso i nostri occhi professionali che sanno indirizzare e dare il giusto indirizzo all'utente, quindi chi è il viaggiatore, colui che ogni tanto dimentichiamo, chiamiamo turista, bruttissima la parola turista, lui è un viaggiatore che vuole scoprire e vuole essere curioso e noi dobbiamo essere bravi ad attirare questa sua curiosità, così al pari delle altre mete, la Sicilia è una destinazione che comunque ha 13 dominazioni antiche, ha 9 siti dell'UNESCO e 2 siti naturali, quindi è una delle destinazioni che si pone veramente come importanza e top nel Mediterraneo.